Diritto commerciale video lezione numero 18. La società in accomandita semplice. In questa video lezione tratterò i seguenti argomenti. La costituzione della SAS, il potere di amministrazione e di rappresentanza, il trasferimento della partecipazione sociale, lo scioglimento della società e la società in accomandita irregolare. La costituzione della società in accomandita semplice. La società in accomandita semplice, essenzia dell'articolo 2313, è una società di persone caratterizzata dalla presenza di due distinte categorie di soci. I soci accomandatari, i quali sono responsabili solidalmente ed illimitatamente nei confronti dei terzi per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti, obbligati esclusivamente ad eseguire il conferimento promesso e responsabili nei limiti della quota conferita. La dottrina ritiene che i soci accomandanti sono obbligati solo nei confronti della società ad eseguire i conferimenti promessi, mentre i creditori sociali non hanno azione diretta nei loro confronti. I creditori sociali potranno però agire contro i soci accomandanti solo in via surrogatoria, nel caso di inerzia della società, per ottenere che gli stessi versino alla società i conferimenti ancora dovuti. In forza del richiamo operato dall'articolo 2315, la disciplina della società in accomandita semplice viene modellata sulla base di quella predisposta per la società in nome collettivo, di conseguenza per la stessa società semplice con le integrazioni e le modifiche dettate dagli articoli 2313 e seguenti del Codice Civile. Difatti l'atto costitutivo della società in accomandita semplice è soggetto alla normativa dettata in materia di SNC, ma vanno necessariamente indicati e distinti i soci accomandatari e quelli accomandanti. Anche per l'SS il contratto sociale va depositato entro 30 giorni presso l'ufficio del registro delle imprese. Se viene omessa la registrazione la società esiste lo stesso ma è irregolare. L'articolo 2314 disciplina la formazione della cosiddetta ragione sociale. In particolare, la società deve essere costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari con l'indicazione del tipo di società. È consentito conservare il nome del socio receduto o defunto purché risulti il loro consenso o quello degli eredi. È sancito il divieto di includere il nome degli accomandanti nella ragione sociale. Questo divieto, quindi quello di non includere il nome degli accomandanti nella ragione sociale, ha la funzione di tutelare i terzi, i quali sono indotti a ritenere che i soci indicati nella ragione sociale siano responsabili illimitatamente per le obbligazioni sociali. Il socio accomandante che consente che il suo nome sia compreso nella ragione sociale risponde di fronte ai terzi illimitatamente e solidalmente con i soci accomandatari per le obbligazioni sociali, perdendo quindi il beneficio della responsabilità limitata. La sanzione a carico dell'accomandante di essere responsabile di fronte ai terzi non legittima di assumere la qualità di accomandatario. Difatti l'accomandante che ha consentito la spendita del suo nome nella ragione sociale non può ingerirsi nell'amministrazione della società. Tuttavia l'accomandante, essendo tenuto senza limiti a rispondere delle obbligazioni sociali, avrà un'azione di rivalza nei confronti degli accomandatari per ottenere il rimborso di quanto versato. Il potere di amministrazione e di rappresentanza. Ex articolo 2315, l'amministrazione della società in accomandita semplice, si articola sulla base delle stesse norme elaborate per la SNC. Tuttavia il potere di gestione della società può essere conferito solo ai soci accomandatari. Il modello legale, pertanto, è rappresentato dall'amministrazione disgiuntiva esercitata da tutti i soci accomandatari ed illimitatamente responsabili. Il modello legale dell'amministrazione disgiuntiva può essere modificato dal contratto sociale che può disporre l'attribuzione del relativo potere in via congiunta a tutti gli accomandatari o alla loro maggioranza, ovvero soltanto ad alcuni di essi. Se ciascun accomandatario gestisce disgiuntamente la società, la sua iniziativa può essere paralizzata dall'opposizione sollevata da un altro socio illimitatamente responsabile secondo il sistema esaminato per le altre società di persone. In questo caso, però, per decidere sulla fondatezza del veto eccepito, saranno chiamati a pronunciarsi soltanto gli accomandatari secondo le maggioranze determinate in base alla misura della partecipazione agli utili. Nella società in accomandita semplice soltanto gli accomandatari possono essere nominati amministratori. Tutti gli amministratori devono essere soci accomandatari, ma non è però necessario che tutti gli accomandatari siano anche amministratori. I soci accomandanti, invece, sono esclusi dalla gestione dell'impresa societaria. L'articolo 2320 prevede, di fatti, che essi non possono compiere atti di amministrazione né trattare o concludere affari in nome della società se non in forza di procura speciale per singoli affari. Si parla all'uopo di divieto di immistione. La violazione da parte dell'accomandante del divieto di immistione ai sensi dell'articolo 2320 si prevede la conseguenza dell'assunzione della responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali, anche per quelli non derivanti dagli atti conclusi personalmente dall'accomandante. In più, il socio accomandante verrà esposto al fallimento, conseguente appunto al fallimento della società in accomandita semplice. Infine, sempre a titolo sanzionatorio, la società può anche disporre l'esclusione del socio che abbia contravvenuto al divieto di immistione. I soci accomandanti possono tuttavia concludere affari in nome della società come meri ausiliari degli amministratori ed in forza di una procura speciale, possono prestare la propria opera materiale o intellettuale sotto la direzione degli amministratori e quindi senza alcuna autonomia o discrezionalità. Nei casi stabiliti dall'atto costitutivo possono dare pareri e compiere atti di ispezione di sorveglianza, avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, nonché di controllarne l'esattezza, consultare libri e gli altri documenti della società. Altro argomento, il trasferimento della partecipazione sociale. Riguardo il trasferimento delle quote dei soci accomandatari, si applicano i principi generali vigenti in materia di società in nome collettivo, in quanto la variazione degli accomandatari è una modifica del contratto sociale. Di conseguenza, per il trasferimento inter vivos della quota di partecipazione sociale, in mancanza di una diversa disposizione dell'atto costitutivo, è necessario il consenso di tutti gli associati, sia accomandanti che accomandatari. In caso di morte dell'accomandatario, ai sensi dell'articolo 2284, sarà necessario anche il consenso degli eredi. Riguardo il trasferimento delle quote dei soci accomandanti, ex articolo 2322, queste sono liberamente trasmissibili per causa di morte, senza che sia perciò necessario il consenso dei soci superstiti. Il trasferimento della quota inter vivos, invece, salvo deroga, è sottoposto al consenso della maggioranza, calcolata in base al capitale, sottoscritto senza distinguere tra accomandanti e accomandatari. Altro argomento è lo scioglimento della società. Ai sensi dell'articolo 2323, la società in accomandita semplice, si scioglie. Per le cause previse dall'articolo 2308, che richiama a sua volta l'articolo 2272, che abbiamo esaminato, ma comunque lo rinfreschiamo anche per la società in accomandita semplice, che quindi si estingue per il decorso del termine, per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, per la volontà di tutti i soci. Quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita, per le altre cause previste dal contratto sociale, per il provvedimento dell'autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge, per la dichiarazione di fallimento in caso di esercizio di un'attività commerciale, oppure si scioglie altresì quando rimangono soltanto soci accomandanti o soci accomandatari, sempre che nel termine di sei mesi non sia stato sostituito il socio che è venuto meno. La contemporanea presenza delle due diverse categorie di soci, accomandatari e accomandanti, deve permanere per tutta la vita della società. Lo scioglimento della SAS non ha luogo immediatamente, ma solo a seguito del decorso del termine di mesi sei. In particolare, qualora vengono a mancare i soci accomandanti, l'attività sociale prosegue regolarmente. Tuttavia, secondo la dottrina, se nel termine legale gli accomandatari non sostituiscono gli accomandanti, alla scadenza la società si trasformerà in una SNC. Nel caso invece vengono a mancare tutti i soci accomandatari, l'articolo 2323 stabilisce che gli accomandanti devono nominare un'amministrazione provvisorio per il compimento degli atti di ordinare amministrazione. L'amministratore provvisorio non assume la qualità di socio accomandatario e dunque nemmeno la responsabilità è limitata per le obbligazioni sociali. Può essere scelto sia tra gli accomandanti che tra soggetti estrani alla società. Il procedimento liquidativo invece e l'estinzione della società vengono regolate dalle norme della SNC. L'articolo 2324 precisa però che una volta ripartito l'attivo fra i soci è cancellata la società, i creditori sociali che non sono stati soddisfatti nella liquidazione della società possono far valere i loro crediti anche nei confronti degli accomandanti limitatamente a quanto ricevuto dagli stessi a titolo di quota di liquidazione, dato che essi non erano soci a responsabilità illimitata. L'ultimo argomento di questa violazione della società in accomandita semplice è la società in accomandita irregolare. L'omessa registrazione non impedisce la nascita della società. Alla società in accomandita semplice irregolare si applica dunque la stessa disciplina esaminata per la società in nome collettivo irregolare. Tuttavia la disciplina della SAS irregolare diverge però da quella relativa alla SNC non registrata per una fondamentale differenza. La responsabilità del socio accomandante di fatti resta comunque limitata alla quota sottoscritta nonostante l'irregolarità salvo naturalmente il caso di immistione nella gestione societaria così come previsto all'articolo 2317,2 del codice civile.